Migliaia di italiani questa mattina si sono svegliati in un paese migliore. La legge sul dopo di noi è finalmente realtà. Sono le famiglie delle persone con disabilità che da oggi possono guardare al domani dei loro cari con un pochino più fiducia. È un gesto bello, è la politica che fa le cose buone, che si prende carico degli ultimi. Si prende carico di chi ha più difficoltà. Lo so, adesso ci saranno i soliti commenti, il Boy Scout, sì, io rivendico, rivendico la legge sul terzo settore, rivendico la legge sui diritti civili, rivendico la legge sull'autismo, rivendico con forza la legge sul dopo di noi. Se da oggi migliaia di italiani possono guardare con più fiducia al loro futuro è perché finalmente la politica fa vedere le cose buone, le cose che rendono questa comunità una comunità solida perché solidale, forte perché capace di non lasciare indietro nessuno.